Da zero, ricominci da zero All'alba del 26 giugno un incendio colpisce il cortocircuito distruggendo un intero padiglione In poche parole non c'è sta più niente Parte la campagna Senza corto non so stare per sostenere la ricostruzione Per partecipare vai sul sito corto.circuito.info o cerca l'appello su facebook No signor ricominci da zero, cioè tre cose mi sono riuscito in da vita perché ho già perduto pure questo Perché ho già ricominciato da zero, da tre Io senza corto non so stare Buona la prima